Allora ragazze vi dico questo fatto che mi ha detto oggi una cliente che è venuta al negozio le è successo la settimana scorsa sulla tangenziale che porta da bitritto a San Nicandro praticamente si è vista arrivare tipo una bomba d'acqua sul fine sul parabrezza e istintivamente lei ovviamente ha frenato perché si è vista arrivare quest'acqua sul parabrezza frenato e istintivamente stava accendendo i tergi cristalli non l'ha fatto perché l'acqua colava ma in realtà a parte l'impatto iniziale poi un po' riusciva a vedere e meno male che non l'ha fatto perché se l'avesse fatto avrebbe impastato il tutto quindi sarebbe stata costretta a fermarsi e lì probabilmente l'avrebbero rapinata e quindi è andata poi dritta ai carabinieri e si sono resi conto che quello era acqua e colla quindi questo è il nuovo scherzetto che stanno facendo e dice che i carabinieri le hanno detto che l'hanno fatto anche sulla tangenziale di Bari sempre la settimana scorsa è la nuova tecnica che adesso adottano per far fermare quindi tenete gli occhi aperti bacio grazie grazie